Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Orieta Moscatelli, collaboratrice di Limes e caporedatrice di Aska News, buonasera Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di Zeit, buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, buonasera Beppe Severnini, benvenuto qui in studio stasera, editorialista del Corriere della Sera. Allora giorno 76 della guerra in Ucraina con in questo momento in corso l'incontro tra il presidente americano Biden e il presidente del Consiglio Draghi, hanno parlato entrambi brevemente poco fa e Draghi chiede a Biden pace, dice che la gente vuole la pace, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Allora Beppe Severnini, Draghi si sta incontrando con Biden in questi minuti nello studio ovale alla Casa Bianca, abbiamo sentito entrambi, hanno parlato brevemente mezz'ora fa e Draghi ha insistito moltissimo su questa necessità, questa urgenza di arrivare a un cessate il fuoco, sul fatto che la gente sia in Italia che in Europa si chiedono cosa fare per arrivare alla pace. Quindi è un messaggio importante che abbia insistito così tanto in questi pochi minuti di intervento pubblico sulla pace. Cosa significa? Beh certo, è importante. Io penso che chi negli ultimi giorni e settimane ha accusato Draghi di essere il barboncino degli americani, di dire che lui andava tutto bene, a dimostrazione che Draghi, forse non siamo l'alleato più importante degli Stati Uniti. Però fra Germania, Francia c'è Gran Bretagna, tra i leader Draghi è il più navigato e ha di fronte un leader navigato che è Biden. Cioè noi non dimentichiamo mai che in questi momenti drammatici l'esperienza conta. Io dico sempre, ma pensate se questo fosse accaduto con Trump alla Casa Bianca. Cioè ragazzi gli faceva vedere e gli trovava il mare d'Azov e gli puntava al lago di Garda, capisci? Non aveva idea. Biden ha passato la vita in politica estera. Aggiungo che quindi oltre a dire l'importanza di pace, che non vuol dire arrendiamoci, mogliamo tutto e lasciamo che dell'Ucraina faccia un campo di concentramento. No, è un'altra cosa. Vuol dire guardate che a noi è una guerra infinita, non interessa, l'Europa non la vuole, non se la può permettere. Ma ha anche aggiunto, e poi è stato interessante perché ha detto vorrei aggiungere una cosa, i post-critum sono sempre indicativi, anche fra fidanzati, figuriamoci alla Casa Bianca. Ha detto qualcuno pensava di dividerci, eravamo uniti, noi europei e gli americani e adesso siamo ancora più uniti, che secondo me è un messaggio molto chiaro agli alleati americani e anche a Putin. Ecco sì, qualcuno pensava di dividerci su questa guerra e invece Draghi dice non ci sono riusciti. Orietta Moscatelli, lei ha sentito i due leader, i due governanti e Draghi è in questo momento forse il leader europeo più affidabile per Biden e per gli americani? Beh, diciamo che data la grande confusione che c'è nel cielo europeo, probabilmente Draghi, ancora più Draghi, non Italia in particolare, è l'interlocutore più affidabile, più lineare, atlantista, europeista, di quell'europeismo che non soffre di un senso di incompatibilità con l'egemonia americana sul continente europeo. Certamente più affidabile di una Francia che invece il dominio americano lo sopporta male da sempre e oggi, anche in base alle ultime dichiarazioni di Macron, è uno degli ultimi progetti per l'Europa ancora più chiaramente più affidabile di una Germania che annuncia il riarmo e lo fa dichiaratamente nel nome dei propri interessi nazionali. Il problema è che il Presidente Consiglio Draghi è un alleato a termine e che comunque l'Italia conta meno sia della Francia e soprattutto della Germania in Europa. Anche perché cambiamo molto spesso i governi, questo è anche uno dei motivi. Volevo dirvi che adesso è uscita la notizia dei partecipanti a questo incontro Draghi-Biden e tra gli altri c'è la segretaria al tesoro americano, la Yellen, che Draghi conosce molto molto bene dai tempi in cui erano entrambi governatori di banche centrali e quindi quando si dice conta il fatto intanto di già conoscersi da prima e di avere un po' di esperienza di rapporti internazionali naturalmente aiuta, vero Giovanni Di Lorenzo? Non so se sia questo quello che sembra qualche volta mancare un po' al cancelliere tedesco Olaf Scholz. No, perché lui ha una lunga esperienza anche come vice della Merkel. Però abbiamo visto una Germania con una leadership forse un po' affaticata nella gestione di questa guerra in Ucraina e si ha quasi l'impressione che per gli americani oggi sia più affidabile l'Italia di Draghi della Germania di Scholz. Io veramente non saprei perché questa guerra ha riunito molto il governo tedesco a quello americano, soprattutto il Partito Socialdemocratico all'America. Il contributo della Germania è notevole. La Germania è davanti all'Italia sia per numero, quantità, costi delle armi, sia per il sostegno finanziario militare, sia per il sostegno all'Ucraina generale, sia per il numero di profughi che la Germania finora ha d'accolto. Perciò non saprei il perché, anche nel suo ultimo grande discorso che Scholz ha fatto domenica, rivolgendosi al popolo tedesco, ha sottolineato che non ci sarà decisione del governo indipendente dalla volontà e degli accordi presi con gli alleati. Quindi insomma, alleato affidabilissimo, anche se ha un po' corretto forse la sua traiettoria. Lili, se mi permette, non è corretto. È che lui ovviamente ha due elezioni nei Lender molto importanti. Una l'ha già persa proprio nel estremo nord della Germania, poi la prossima sarà nel norreno Westfalia, il land più grande della Germania, dove i socialdemocrati sembrano stiano per perdere. Anche perché bisogna dire che la maggioranza, io stimo, dei tedeschi fa lo stesso discorso, almeno come slogan, come l'ha fatto Draghi adesso in America, cioè vuole la pace e vede con un certo sospetto il pericolo che questi armamenti dati, queste armi dati all'Ucraina possano contribuire all'escalazione del conflitto con la Russia. E certo, questo è un po' il problema che abbiamo anche in Italia, Andrea Scanzi. Intanto dimmi che impressione ti ha fatto questi pochi minuti di Draghi. Voi, del fatto quotidiano, mi viene da dire, e anche tu personalmente che hai proprio oggi criticato duramente Draghi accusandolo di essere un filo atlantista, un po' barboncino di accompagnamento degli americani, non è proprio sembrato così questa sera. Quindi? Io non riesco a cambiare idea dopo aver sentito 5 minuti di intervento in cui Draghi evoca la pace. Se basta per cambiare un giudizio sono contento, ho ascoltato l'intervento di Peppe Severnini, diciamo che io sono un po' meno entusiasta e sono anche meno entusiasta e positivo e ottimista se penso a Biden che è stato tratteggiato come un grande politico, con una grande esperienza di politica estera, ed è vero che ha una grande esperienza di politica estera, diciamo che oggi secondo me ha sbagliato tutto, ha sbagliato tutto da un punto di vista di dialogo, diplomatico, di toni. In alcuni casi ha sbagliato, in altri casi ha tradito quella che è secondo me la vera vocazione, la vera volontà degli Stati Uniti, cioè quella di utilizzare questa guerra, che al momento è una guerra per procura, per attuare un regime change, cioè un cambio di regime, cioè disarcionare Putin e trasformare una guerra di difesa, giustissima, sacrosanta, in difesa dell'Ucraina, in guerra di offesa. A oggi mi sembra che questo ancora sia sul tavolo, a prescindere dall'intervento che ho sentito di Draghi. Intanto Draghi mi piacerebbe che riferisse al Senato, so bene che lo farà. Lo farà il 19 maggio, a oggi Draghi, il 19 maggio, giovedì, ci sarà il cosiddetto Premier Time, sono contento, credo che sarebbe stato giusto farlo prima, perché è abbastanza normale che in una Repubblica parlamentare il Presidente del Consiglio dica al Parlamento e conseguentemente al popolo italiano, noi Italia vogliamo fare questo, questo e quest'altro. Poi, io non lo so se Draghi sia la persona più ascoltata tra i leader da parte di Biden, è possibile, non è detto che sia positivo, perché intanto non mi sembra che sia la persona tra i leader europei che conti di più in questo conflitto, perché mi sembra che stia toccando palla Macron, stia toccando palla Scholz, vedo molto indietro Draghi. Se Draghi poi è quello che piace di più a Biden, non è detto che sia positivo per il popolo italiano, perché bisognerebbe che Draghi capisse, e lo sa benissimo perché è una persona molto intelligente, che non sempre la politica europea e la politica americana coincidono, la politica atlantista. L'ultimo riferimento, anzi l'ultima riflessione che io faccio, e poi mi fermo, io trovo che se mi chiedi cosa vorresti che facesse il Presidente del Consiglio Draghi, a cui auguro ogni fortuna, io vorrei che facesse quello che sta facendo Macron, io non sono un grande fan di Macron, anche se lo avrei ovviamente votato rispetto a quell'altra, a Le Pen, però Macron mi sembra uno di quelli che sta provando a distanziarsi con rispetto e con garbo rispetto alla politica americana. Intanto lo ha fatto quando Biden ha utilizzato dei toni da bar, perché è giusto dire che Putin è un criminale, ma lo posso dire io al bar, non lo può dire secondo me il Presidente degli Stati Uniti. Quando io sento Macron, vedo un leader europeo che fa una politica estera europea, e secondo me sta perseguendo la pace e sta cercando il negoziato molto più di Biden e a oggi di Draghi. Poi se da domani Draghi diventerà quello che ha detto Severnini ne sarò molto contento. Ti chiedo subito un'opinione su questo, voglio dirvi però che proprio rispondendo a una domanda su Draghi e le sue parole a proposito della pace, la portavoce della Casa Bianca ha detto adesso non c'è nessun segno che la Russia voglia una soluzione. diplomatica, quindi diciamo sempre un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Ma Draghi, perché insomma da quello che dice Scanzi non va bene comunque, perché se non conta niente è terribile perché non conta niente, se conta qualcosa con gli Stati Uniti è perché comunque non neanche questo può bastare, meglio Macron. Ricordiamo anche che il Presidente francese Macron è il Presidente di turno del Consiglio europeo, quindi diciamo ha anche degli obblighi istituzionali diversi. Questo studio mi rende buono, stasera no, io spesso sono d'accordo con Andrea e guarda dico due cose su cui in parte siamo d'accordo. Allora è vero che su cinque minuti di Draghi seduto sulle due poltrone non si può dire molto ma già si può dire qualcosa. Sia su Draghi che su Biden ricordiamo sempre che veniamo da un Presidente Trump che aveva chiamato faux, quindi nemica l'Unione Europea, che è un vocabolo impensabile. Cioè questo signore ha detto noi siamo contenti che l'Europa sia unita, quanto contenti lo vediamo, però in tanti lo hanno detto. Quello che conta è quello che si diranno dentro. Siamo sicuri che un leader esperto di 74 anni vola a Washington per star lì a ascoltare la lezione o per farsi la photo opportunity alla Casa Bianca? Sono sicuro che a quattro occhi le cose gliele dirà. Una cosa, Andrea ha parlato di cambio di regime, cioè gli americani hanno in testa un cambio di regime. Una preoccupazione? Se vorrebbero che Putin non fosse più al Cremlino. Io credo che tutti, ma dico tutte, le persone di buona volontà in Europa dovrebbero sperare che Putin se ne vada, naturalmente, e comunque che non possa mai più riprovarci. Questo è evidente, spero che siamo tutti d'accordo. Il mio timore, a proposito di Biden, non so se farò contento Andrea, è questo, che siccome lui appartiene a una generazione che ha visto Reagan chiamare il bluff dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica negli ultimi anni era un grande bluff e Reagan, che era un giocatore, ha chiamato il bluff e si è sciolta l'Unione Sovietica. Biden, speriamo che non accada, per essere ricordato nella storia, dica facciamo lo stesso, perché anche questa Russia per molti voi versi è un grande bluff, è un gigante con i piedi d'argilla, soltanto che non c'è Gorbachev, che era una persona ragionevole, c'è Putin, che è un altro carattere ed è molto molto più pericoloso. Ecco, spero solo che Biden non abbia fantasie segrete del genere. Mi auguro di no, per il suo bene e il nostro, perché se noi gli americani restiamo insieme, non ce n'è per nessuno, questo lo so che molti italiani mi ascoltano e mi stanno dicendo delle parolacce, ma è la verità, finché l'Unione Europea e gli Stati Uniti riescono ad andare d'accordo, a non litigare, a trovare un punto d'incontro, non ce n'è per nessuno, perché siamo le democrazie, non è di modo a dirlo e io lo dico. È una cosa che Biden peraltro ha detto poco fa nell'incontro pubblico con Draghi, che è importante che l'Unione Europea e Nato siano state tenute insieme. Lei è d'accordo con l'analisi fatta da Severnini, Orieta Moscatelli? E anche sul fatto che Putin e la sua Russia siano un gigante dai piedi di argilla, come ha detto Severnini? Diciamo che la Russia certamente è entrata in questa fase bellica in una condizione di debolezza, di debolezza strategica e probabilmente è uno dei motivi per cui alla fine Putin ha deciso di fare questa pazzia, anche dal punto di vista russo. Io credo che come forse non se lo è chiesto abbastanza bene Regan all'epoca e la leadership americana in generale ai tempi sovietici, Biden io spero si chieda cosa potrebbe accadere all'Europa innanzitutto se una Russia improvvisamente implode e crolla sui propri piedi effettivamente d'argilla. E io penso sinceramente che la domanda se la stiano ponendo, la Russia è un paese che sta attraversando un attimo cercando di astrarre, è impossibile, insomma cerchiamo di farlo per un secondo, una fase estremamente complessa, una fase estremamente complessa perché vive questa profondissima contraddizione tra il grande bisogno di sentirsi potente, di esserlo per tanti versi, insomma ricordiamo, e lì ricordiamoci anche la domanda che si deve fare Biden, che è una potenza nucleare insomma di primo ordine e allo stesso tempo ha delle debolezze intrinseche che sono anche frutto di scelte non strategiche fatte negli ultimi vent'anni. Quindi oggi quello che vediamo, l'abbiamo sentito ieri implicitamente nel discorso di Putin per il giorno della vittoria, che era un discorso in realtà molto rivolto ai russi, ancora più a mio avviso che al resto del mondo, e Putin ha descritto questa guerra come giusta, inevitabile, inevitabile e quindi giusta, è un discorso che con i russi ancora passa, diciamo con i più, potrebbe non passare se i tempi si allungano molto e dovesse emergere dall'allungamento dei tempi un senso di sconfitta. Che è quello che l'intelligence americana ha detto oggi, che sarà una guerra lunga, ma magari ci arriviamo dopo. Giovanni Di Lorenzo, voglio chiederti, allora, in Germania c'è un forte movimento pacifista, come c'è anche in Italia, quanto conta nel dibattito pubblico? Anche tutta la discussione sull'invio di più armi, anche pesanti, perché i tedeschi invieranno anche armamenti pesanti all'Ucraina. Quanto conta nell'agire politico e nel dibattito pubblico? E poi aggiungo un'altra cosa, perché siccome la televisione italiana viene accusata alcuni conduttori, giornalisti, di essere filo-putiniani perché fanno sentire anche la voce di giornalisti filo-putin, esiste una cosa simile in Germania? Io, per quello che riguarda la TV italiana, non posso proprio permettermi un giudizio. In Germania sicuramente nessuno è stato invitato a un talk show per fare la propaganda russa. Questo assolutamente sarebbe quello che in Germania, usando una parola inglese, chiamano false balances, cioè dicono che ci vuole un minimo di indipendenza, di giudizio. Io mi ricordo l'ultima trasmissione che ho partecipato a otto e mezza, c'era un giornalista russo che ovviamente aveva paura di dire una minima parola che non corrispondeva al 100% alla propaganda russa. Cioè quindi un giornalista, una giornalista russa, russi, non viene invitato nelle trasmissioni televisive tedesche? Non perché sia russo, ma in quale funzione, se è propagandista di Putin o se è una persona indipendente. Sicuramente ricordiamoci che anche tra i colleghi e le colleghe russe non ci sono solo quelli che seguono il discorso di Putin, la propaganda di Putin. No, certo, tant'è che anche noi a otto e mezzo abbiamo ospitato e ospitiamo anche giornalisti russi dissidenti che spesso devono vivere fuori dal paese, diciamo, non risparmiamo. Con grandi paure, con grandi paure. Però ci sono in tutti i dibattiti delle voci molto diverse. L'opinione pubblica è proprio separata in Germania. Non si può manco più dire quelli più conservatori stanno da una parte, cioè per gli armamenti, e quelli invece più di sinistra sono contro. È un discorso trasversale tra intellettuali, uomini politici e anche rappresentanti del mondo culturale. Il dibattito è forte e per la prima volta da molti anni passa da quello che sono state le urla nei social media, le diffamazioni nei social media, a un dibattito più civile che viene attraverso i media, che viene in Parlamento, che viene nei cortei, ha perso un po' la violenza che spesso purtroppo hanno i shitstorm nei social media. Perciò è una cosa che rispecchia molto anche lo stato d'animo in Germania, che i tedeschi sono un po' contraddittori. Da una parte la maggioranza è per le armi pesanti della Germania che arrivano all'Ucraina. Dall'altra parte trovano il corso di Olaf Scholz, il cancelliere, che è un corso abbastanza moderato e che qui spesso chiamano un po', come dire, non molto chiaro. si ritrovano in lui perché rappresenta anche le paure e le obiezioni che molti tedeschi, non solo per quello che hanno combinato in Ucraina e Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno. Allora, Andrea Scanzi, tu volevi intervenire. Sì, intanto volevo dire che il dibattito armi sì, armi no al popolo ucraino è uno dei motivi per cui vedo Draghi in difficoltà, perché è un problema anche politico. Parliamoci chiaro, in questi minuti Biden sta chiedendo a Draghi due cose, emanciparsi il più possibile dal gas russo, magari prendendo il gas americano che costa pure di più, ma soprattutto inviare ancora più armi. Inviare ancora più armi sancisce una spaccatura dentro il governo Draghi, e questo Draghi lo sa. Draghi va da Biden con Conte che non vuole più inviare armi, Salvini che non vuole più inviare armi, Bersani che ha dei dubbi. Se noi togliamo Lega e Movimento 5 Stelle al governo Draghi, il governo Draghi non ha più la maggioranza. Quindi non è un Draghi baldanzoso come poteva essere sei mesi fa da un punto di vista politico. Per quanto riguarda l'invitare o meno giornalisti, opinionisti filorussi o addirittura al soldo di Putin, io trovo che siamo dentro uno dei momenti più aberranti del dibattito nazionale giornalistico e non solo. Noi abbiamo il Coppacir che si sta occupando delle televisioni italiane, delle trasmissioni, dei giornalisti, che adesso la commissione parlamentare che vigila sui servizi segreti, non ne abbiamo bisogno. È esattamente quello che stavo per dire, è allucinante. Intanto è anche comico e paradossale, perché il Coppacir che dice che ci sono dei giornalisti pagati da Putin che vengono per difendere Putin e fa ridere, visto che alcuni giornalisti lavorano per TV di Stato russo e del Ministero della Difesa. Quindi non ci voleva il Coppacir per scoprirsi certe cose. Ma poi da quando il Coppacir, la politica e i servizi segreti devono decidere chi va in televisione? Io sarò libero da spettatore, ma ancora di più da conduttore televisivo, di scegliere chi invitare o meno. Anche il dibattito su Lavrov, ospitiamolo o no, intervistiamolo o no, il Ministro degli Esteri russo, è stato aberrante. Si può discutere e sindacare sulla bellezza di quella intervista, sulla liceità deontologica di quella intervista, se sono state fatte o meno le domande giuste. Ma questo appartiene allo spettatore, non appartiene al Coppacir. Questo è folle, questa distinzione bene e male, manichea, che sta rincoglionendo mezzo mondo, io la trovo inquietante e ti confesso che trovo molto triste che tra questi pifferai magici del bene e male, quello va in TV, quell'altro no, non ci siano soltanto certi tromboni della politica che conosciamo ampiamente, certi bacchettoni, ma ci siano anche esponenti abbastanza autorevoli, anche intelligenti, del Partito Democratico. A me questo spiace molto, perché essere dalla parte dell'Ucraina non significa silenziare tutti coloro che hanno l'ardire di fare ogni tanto delle eccezioni. Voglio sperare che non sia questa l'idea di democrazia di certi partiti politici come il Partito Democratico. Ecco, come vedi Giovanni Di Lorenzo, anche in Italia l'opinione pubblica è divisa e tutti i discorsi che si intrecciano con la guerra in Ucraina sono poi molto trasversali. No, volevo aggiungere una cosa, non so se siete d'accordo, io parlo ai nostri colleghi qua oggi, anche a te Lili, però alcuni di questi giornalisti, più che pagati da Putin, sono terrorizzati da Putin e le uscite che hanno fatto nella televisione italiana, secondo me sono state addirittura controproducenti. Cioè uno li ascoltava e diceva, allora è proprio vero, questo qua deve essere un posto terribile se manda fuori questi a dire queste cose spaventose. In quanto l'intervista a Lavrov l'abbiamo avuta, anch'io sono stato qui con una collega russa, siamo stati anche educati, però le abbiamo detto che insomma... Beh, insomma, è ovvio, noi continuiamo a fare i giornalisti, no? No, e quindi l'intervista a Lavrov, appunto il problema era se era un'intervista, perché è chiaro che tutti i grandi governanti del mondo negoziano le condizioni di un'intervista. Un giornalista, secondo me, l'ho già detto, non doveva accettare quale condizione, perché se le condizioni erano faccia dei monologhi, dieci minuti, dico le robe da matti e tu non mi interrompi, non andava bene. Vabbè, il giornalista di Rete4 dice che in realtà ha fatto anche le cosiddette follow-up questions, quindi le domande che seguono a una risposta senza risposta. Beppe Severnini, lo ricordiamo spesso anche qui a 8 e mezzo, che in tutte le guerre ci sono le macchine della propaganda di tutte le parti che si mettono in movimento. Ecco, tu trovi che quella americana sia più efficace di quella russa, ovviamente? Diciamo, io penso di sì, cioè penso che anche quella americana sia una macchina. Esiste, certo che esistono propagande. E anche da noi, insomma, funziona anche una certa propaganda. Secondo me quella russa punta alla propaganda interna. Lo diceva, non so chi l'ha detto prima, è vero. Il discorso che ha fatto il 9 di maggio era diretto ai russi. Oggi la direttrice della National Intelligence, che si chiama Avril Haynes, ha detto una cosa interessante che chiunque conosce la Russia sa. Cioè, Putin è convinto che i russi abbiano una capacità di resistenza alle difficoltà, alla fatica, alle prime sconfitte, superiore alla nostra di occidentali. E quindi alla lunga ci stufiamo prima noi, sostanzialmente. E questa sua propaganda, secondo me grottesca, di paragonare la vittoria con i nazisti nella seconda guerra mondiale a questa. Però, sai, a furia di ripeterlo, di ripeterlo, di ripeterlo e di ripeterlo, io spero in Italia non ci caschiamo, ma in Russia questa cosa sta cominciando a passare. Quindi, come propaganda, lui ci sa fare, purtroppo. Per la propria opinione pubblica. Giovanni Di Lorenzo, so che richiederebbe un'ora di trasmissione, ma invece ti chiederei di rispondermi in modo molto breve. Appunto, Putin viene paragonato a Hitler. Putin stesso ha parlato di denazificazione dell'Ucraina. Ma questi paragoni sono pensabili oggi? Ma non vengono fatti, purtroppo, anche in Germania. Io non trovo niente di più luttante che i paragoni con il nazismo in Germania. E dovremmo essere molto cauti e ogni tanto chiudere la bocca. Comunque, sono difficili da paragonare. Non c'è in Russia il mito della superiorità razziale da parte della popolazione russa, anche perché è talmente mischiata che sfiorerebbe il ridicolo. Non c'è l'antisemitismo di Hitler. Quello che si può paragonare è un nazionalismo portato al massimo e in più una volontà di espansione imperialistica che ovviamente anche parallela c'è. Che andrebbe, insomma, dove si capisce che su questo si potrebbe fare un paragone. Allora, io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, ma prima vi ricordo che da giovedì, quindi da dopodomani, vero Andrea, c'è il tuo nuovo libro pubblicato da Paper First che si intitola E ti vengo a cercare su Franco Battiato che c'entra anche con la guerra. Ma ne parliamo la prossima volta. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché sono 6 milioni gli ucraini che hanno già lasciato il loro paese. Guardate. Si chiama Vasil Maximenko, è ucraino e comanda la nave mercantile che il 30 marzo ha salvato 32 migranti dal naufragio e dalla morte nelle acque internazionali al largo della Libia dove va fatto altre volte in passato. In questi giorni a Odessa un'altra nave, la Open Arms, normalmente utilizzata per soccorrere i naufraghi, Dopo una lunga navigazione attraverso il Mediterraneo, l'Egeo e il Mar Nero, ha sbarcato 24 tonnellate di cibo destinato alla popolazione civile che resiste agli attacchi russi. La ONG che gestisce Open Arms ha anche aperto una sede a Varsavia e da lì ha organizzato alcuni voli che finora hanno consentito di mettere in salvo a Roma, Barcellona e Madrid circa 1200 rifugiati ucraini, per lo più anziani e madri con bambini piccoli. Nell'economia circolare dei diritti umani le parti talvolta si scambiano e si confondono. Il capitano ucraino salva i naufraghi africani e la ONG, che normalmente si occupa di questi ultimi, prende a bordo i profughi ucraini. È un incrocio significativo nel momento in cui sembra irresistibile la tentazione di classificare i rifugiati secondo il loro valore geopolitico. Il New York Times ha dedicato un reportage ai diversi destini di Albagi, giovane del Sudan di 22 anni, e Katia, 21 anni, originaria di Odessa. Entrambi volevano fuggire dall'Ucraina attraversando la Polonia, ma il primo non ce l'ha mai fatta. Un rischio di discriminazione che si corre anche in Italia e che spinge l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione a chiedere che la protezione temporanea sia estesa a quelle migliaia di persone in fuga dall'Ucraina pur non essendo nate in quel paese. Siamo in chiusura. Grazie, Euretta Moscatelli. Grazie, Giovanni Di Lorenzo. Grazie, Andrea Scanzi. Grazie, Beppe Severnini. Grazie, spettatrici e spettatori. Lina Giovanni Floris al suo di martedì. Quindi state con noi. E noi, come sempre, ci vediamo domani a 8 e mezzo. Arrivederci. Grazie a tutti.